Siamo alle solite, signori, siamo proprio alle solite. Grande fratello VIP, Oriana Marzoli combina guai, ma non solo lei, anche Antonella Fiordelisi, perché c'è stato l'ennesimo scontro tra tutte e due. Non si tratta soltanto di caratteri che sono totalmente diversi, lei ha un carattere e quell'altra ne ha un altro, come giusto che sia, ma anche del modo di vedere alcune cose, e quindi nella casa questa convivenza, che comunque alla fine una convivenza forzata, non è facile, ma non è mai stato facile, nemmeno prima. Soprattutto quando di mezzo ci si mettono anche le differenze. Quindi, ragione per cui quel che sappiamo di certo è che c'è stata questa lite, dove hanno detto possiamo vedere chi è la persona cattiva, mamma mia mi ha chiamato falsa, falsa, è una persona che ti dice simpatica dal vivo e dietro invece ti dice cose brutte, mi chiama cattiva, non mi interessa niente se sono una sottona, se sono stata onesta con i miei sentimenti. E questi amici sono state subito le parole di Oriana, che ha trovato anche l'appoggio del conduttore. Delle cose che ha detto condivido una cosa, non mi ha mostrato solidarietà quando mi ha visto soffrire per Antonio, e in effetti non hai mostrato empatia verso un'altra donna. E questa invece è stata appunto la risposta di Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi. Un confronto abbastanza acceso, iniziato con un bugiarda, a cui la modella originaria di Salerno ha risposto e ha detto sì ma tu prenditi una camomilla, no? È una falsa, mi ha sempre sparlato dietro facendo l'amica. Pensa, l'ha fatto anche con Sara, non sei stata una buona amica, egoista. E davanti a queste parole anche l'incursione di Jael e Dedonà, cioè già ce n'erano pochi di casini, no? Niente, è arrivata anche lei, fa sono venti giorni che mi manda frecciatine, provocazioni e altro, sento che parla di me alle mie spalle e non è buon cosa. Ma durante il confronto anche Signorini è tornata a prendere parola interpellando Edoardo Donna Maria, dicendo quanto ne hai piene le scatole di queste liti continue? Ma la risposta di Edoardo era già sottintesa. Ecco, litighi con tutta casa, basta che non litighiamo io e lei. In queste dinamiche in generale... E come altri poi hanno avuto modo di apprendere di fronte a queste parole, Sonia Bruganelli ha deciso di non passarci su e ha detto se non puoi parlare le dai ragione, ti metti in un angolo e non litighi. Non do sempre ragione a lei, questa è stata la risposta di Donna Maria. E allora Alfonso Signorini fa a volte, a volte per convenienza e ho detto tutto. Frase che ha concesso a Sonia di replicare ulteriormente dicendo a alcune amicizie le stai buttando via per seguire troppo la pace. E con questa sua affermazione andiamo a chiudere questa piccola news. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima, dato sapere che di grande fratello VIP ce ne sono tante 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 tante, ma soprattutto tornerò all'assalto domani con le news perché oggi è domenica signori, è domenica anche per me. Quindi io vi ringrazio comunque, un abbraccione e un bacione a tutti, noi ci sentiamo alla prossima, mi raccomando.